Marina è in serio pericolo di vita nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda nel corso del 2022 in prima visione assoluta su Rai 3. Le anticipazioni della soap opera, in onda nella fascia dell'ex esprime Time della terza Rai 3. Rivelano che la sparizione della signora Giordano sarà sempre più avvolta nel mistero. Nessuno avrà informazioni sul suo conto dopo che farà perdere le sue tracce, eppure per Marina la situazione si preannuncia più grave del previsto. Tanto che potrebbe rischiare seriamente la vita. Nel dettaglio, le anticipazioni dei nuovi episodi di Un Posto al Sole per il 2022 rivelano che la sparizione di Marina Giordano sarà uno dei temi portanti della soap opera nel corso delle prossime settimane. La donna farà perdere misteriosamente le sue tracce, nessuno sarà a conoscenza del perché sia sparita nel nulla. Compreso lo stesso Roberto Ferri, che si ritroverà a fare i conti con delle giornate a dir poco difficili. Sì, perché poco dopo la sparizione della donna, Ferri riceverà una lettera che porta proprio la firma di Marina, trattasi di una missiva d'addio. Dove la donna prende le distanze dal suo amato e lo saluta per sempre. Un durissimo colpo per Ferri, il quale non riuscirà a darsi una spiegazione logica su quanto stia accadendo. Eppure ben presto si renderà conto che c'è qualcosa che non quadra in tutta questa vicenda. E che Marina potrebbe non essersi allontanata volontariamente dalla città e dai suoi affetti più cari. Roberto non immagina minimamente che dietro questo intricato giallo cicerilo zampino del perfido Fabrizio Rosato. L'ex compagno di Marina è tornato all'attacco e ha scelto di rapinare la donna. Che adesso tiene prigioniera, e distante da tutto e tutti. Marina quindi, in queste nuove puntate di Un posto al sole, si ritroverà vittima della perfidia del suo ex uomo, la situazione ben presto assumerà una piega del tutto inaspettata. Sì, perché Fabrizio diventerà sempre più spietato e tirerà fuori dei lati della sua personalità che saranno decisamente preoccupanti. E potrebbero far temere il peggio. Non si esclude che questo rappimento di Marina possa trasformarsi in tragedia nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole. La signora Giordano potrebbe ritrovarsi vittima della furia di Fabrizio e rischiare seriamente il decesso per mano di quell'uomo che vuole portare a termine la sua vendetta.